con carlo gioielli una riconferma del casoria carlo quali sono secondo te qual è lo spessore delle new entry in squadra e quindi quali sono le aspettative si le aspettative sono indubbiamente molto alte perché sono sono venuto qui ho trovato un gruppo di ragazzi bravi ragazzi oltre che bravi calciatori diciamo che man mano ci dobbiamo amalgamare perché su 11 giocatori siamo solo tre della vecchia della vecchia stagione però tutto sommato vedo che un gruppo organizzato senti si diceva col mister che domani state concludendo la preparazione qua alla varatina e domani avete questo test importante con la maddalenisa al quale secondo te è possibile già capire bene di che pasta tra virgolette siete fatti quest'anno e che cosa potete aspirare no diciamo che domani è un test indubbiamente relativo perché è solo una settimana che siamo qui tutti insieme a lavorare facendo carichi di lavoro molto alti grazie al nostro prof che ogni giorno con le doppie sedute ci ci mette sotto stress e ci fa allenare alla grande domani sarà sicuramente un buon test che pure per vedere i ragazzi questi ragazzi nuovi gli under che sembrano interessanti carlo l'anno scorso si è stato abbastanza importante tu e per la squadra ricordiamo anche i tuoi magari non tantissimi ma i gol importanti che hai realizzato possiamo rassicurare quali sono il tuo stato fisico ai tifosi sì sì diciamo che quest'anno mi sono mi sono allenato anche prima per farmi trovare già pronto perché parliamoci chiaro il campionato d'eccellenza non è come quello di promozione indubbiamente il livello è più alto mettendo anche in preventivo che le altre squadre da affrontare sono la maggior parte tutte corazzate diciamo noi daremo il nostro nel campionato ce la giocheremo con tutti quanti e il tuo apporto quale potrà essere? diciamo che io lavoro per fare sempre bene mi metterò come sempre a disposizione della squadra e dell'allenatore grazie di niente ciao a tutti voglio fare un appello ai nostri tifosi ragazzi appoggiateci e abbonatevi un saluto